Buongiorno, bentornati e bentornate al quarto episodio Digitech, una miniserie in cui stiamo esplorando gli aspetti tecnologici di una moderna piattaforma assicurativa. Io sono Ivano Mantegazza e sono un Solution Consultant di Gaidware Italia. Nell'episodio precedente abbiamo parlato con Simone e ci siamo occupati di come integrare la piattaforma con il mondo esterno. In questo episodio andiamo a vedere come fare a tenere la piattaforma aggiornata e al passo con i tempi senza che si accumuli del debito tecnico. Chi meglio di Massimo Lupi che è Vice President dei Servizi Professionali a livello globale della Practice che appunto si occupa della nostra piattaforma e peraltro ha anni di esperienza sul campo può aiutarmi a dipanare questa matassa. Quindi Massimo, benvenuto, ti chiedo subito cosa possiamo fare per tenere aggiornata la nostra piattaforma di platform as a service. Ciao Ivano, allora per rispondere a questa domanda partirò da un esempio della vita di tutti i giorni in modo anche da portare a bordo le persone meno tecniche. Una decina d'anni fa con mia moglie abbiamo comprato casa e una cosa che assolutamente non volevamo far mancare alla mia famiglia era il giardino. Ci piace il giardino, ci piace il verde, ci piace goderselo. Il problema è che questo cozza con la mia proverbiale pigrizia e mancanza di pollice verde. Fortunatamente abbiamo trovato un giardiniere che non solo si è occupato di realizzare il giardino in base ai nostri desideri e soprattutto in base alle nostre disponibilità economiche ma che soprattutto ci ha proposto un contratto di manutenzione in cui lui si occupa mensilmente di venire a casa nostra e prendersi cura del giardino. In pratica da marzo ottobre ogni mese lui viene e si occupa di tagliare l'erba, potare le piante, sistemare eventuali, sostituire eventuali piantine che si sono seccate, sistemare l'impianto di irrigazione e così via. Quindi in pratica io non devo fare niente a parte pagare il giardiniere in base a questo contratto che abbiamo fatto e mi posso semplicemente godare e godere il giardino ogni weekend. Ecco questo mi sembra un esempio perfetto e calzante di come si mantiene aggiornata una piattaforma platform as a service o software as a service. Gli inglesi direbbero sit e relax perché non devi fare niente, è il fornitore della piattaforma che si preoccupa di mantenere la piattaforma aggiornata e tu devi solo preoccuparti di consumare le nuove funzionalità che vengono di volta in volta e le sei disponibili. Beh Massimo mi sembra un'ottima idea ci devo pensare anch'io per il mio giardino nel mentre magari vengo a fare un po' di sit e relax da te. E intanto ti chiedo ma se facciamo un paragone con quel che accadeva nel passato di diciamo piattaforme o come dire soluzioni self-manage con il tipo di aggiornamento che facciamo adesso, similitudini, differenze nell'aggiornamento? Beh le differenze sono abissali, se pensiamo a come si aggiorna un sistema core di una compagnia diciamocelo, è un bagno di sangue e te lo dice qualcuno che ha vent'anni che lavora nei servizi professionali e ha visto fare queste cose tutti i giorni. Quando si decide di aggiornare la piattaforma bisogna innanzitutto procurarsi tutta la nuova infrastruttura perché quella vecchia naturalmente nel frattempo è diventata obsoleta, non funziona più per il nuovo software. Poi bisogna portare tutte le customizzazioni che si sono state fatte nella vecchia piattaforma alla nuova e questo richiede un sacco di tempo. Una volta che è stato customizzato inizia una lunga fase di test per vedere che non abbiamo introdotto difetti nella piattaforma. Poi quando finalmente si arriva al passaggio in produzione bisogna spegnere le macchine, rilasciare tutto quanto, di solito viene fatto nel weekend, possibilmente nel weekend lungo perché richiede tempo, bisogna migrare tutti i dati dalla vecchia alla nuova e quando finalmente si accende, si aprono i rubinetti, iniziano ad arrivare le prime polizze e così via, si trovano difetti che naturalmente non siamo riusciti a scoprire durante la fase di test. Quanto tempo ci vuole prima di arrivare ad avere la stessa funzionalità che si aveva nella vecchia. Questo è dovuto dal fatto che questi progetti di upgrade vengono fatti ogni 5-10 anni, quindi la forbice tecnologica tra la nuova piattaforma e la vecchia è abissale. Ora, per chi è nel cloud questa cosa è lontano ricordo. Gli aggiornamenti nel cloud vengono fatti ogni 8 mesi e quindi essendo una forbice molto più ridotta sono molto più facili da consumare e veloci. Se ripensiamo ai tempi in cui usavamo i sistemi operativi Windows per le persone che sono negli ANTA come noi, a me viene facile paragonare con quello che veniva fatto al tempo in cui volevi aggiornare il sistema operativo. Se usavi Windows 95 e volevi passare a Windows 98, potevi chiamare l'upgrade, ma non era un upgrade, perché partivi dal vecchio sistema operativo, ti salvavi tutti i dati su un disco esterno perché il cloud non esisteva a quei tempi e poi si formattava e si installava il nuovo. A quel punto dovevi ristallare tutti i programmi che avevi nel vecchio, sperando di trovare le versioni giuste che funzionassero, reimportare tutti i dati e poi configurarlo. Quanto tempo ci mettevi prima di arrivare ad avere le stesse funzionalità che avevi nel vecchio, nel nuovo sistema operativo? E una volta arrivati ad avere tutte queste funzionalità, finalmente potevi iniziare a imparare ad utilizzare le nuove funzionalità disponibili con il nuovo sistema. Se vi guardiamo invece ad oggi, il mio cellulare, mi arriva una notifica, c'è un aggiornamento di Android. Clicco su scarica e installa, viene scaricato, si aggiorna in automatico, si riavvia e tutto funziona. È retrocompatibile, tutte le app che avevo prima continuano a funzionare e io mi devo occupare solamente di imparare le nuove funzionalità. Non so tu, ma io tra le due preferisco la nuova esperienza utente. Mamma mia Massimo, che ricordi che mi hai evocato di serata e passata ad aggiornare Windows, forse dovrei dire notate, tenendo le dita incrociate che tutto funzionasse di nuovo. No, no, decisamente meglio oggi con l'aggiornamento dei telefonini e anche dei computer, che si fa in pochi minuti. Ma spingiamoci un po' oltre e vediamo proprio appunto quali sono i vantaggi di un aggiornamento di questo tipo in una piattaforma di tipo software as a service. Allora, vantaggi ce ne sono tanti, però onestamente per me è uno, è veramente importante, ed è riappropriarsi del proprio tempo e del proprio mestiere. I dipendenti delle compagnie assicurative dovrebbero fare gli assicuratori, quindi gestire i sinistri dei clienti, creare nuove polizze per poter esplorare nuove nicchie di mercato o nuove clientele, prezzare le polizze al livello giusto per far sì che la compagnia sia profittevole ma che chiunque possa comunque accedere alla polizza quando ne ha bisogno, questo dovrebbero fare, non occuparsi di infrastruttura informatica, sicurezza, upgrade di sistema. Ecco, se torniamo al mio esempio del giardino, se io dovessi stare ogni weekend a sistemare il giardino, fare il giardiniere, non fare più il mio mestiere. Questo secondo me è il vantaggio più grande di utilizzare una piattaforma as a service o un software as a service. Beh sì, Massimo hai toccato davvero un aspetto importante, riappropriarsi del proprio tempo e sfruttarlo al meglio, sia che si lavori, sia che lo si trascorra insieme ai propri cari e quindi sicuramente dobbiamo tenere presente questo aspetto e sfruttare le tecnologie che ci permettono di farlo. Quindi ti ringraziamo per averci dato questi interessanti spunti di riflessione. Noi per oggi ci fermiamo qui e vi rimandiamo al prossimo episodio di G-Tech. Vi aspettiamo, non mancate!